Musica Questa volta mi porto in un posto unico al mondo dove sono state scoperte due statue una di Ulisse e la seconda di Bios ma ora seduti vi porterò alla scoperta di questo bellissimo posto perché con il mio drone vi porterò ripeto alla scoperta di una città magnifica sto parlando di Baia sommersa di una città di un sistema di